Oggi è la festa della Repubblica. È il 154esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei gemelli. La chiesa ricorda San Marcellino. L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Emilia. Il nome ha origine latina e significa cortese. Accadde oggi. Il 2 giugno del 1946, con un referendum istituzionale, gli italiani decidono di trasformare l'Italia da monarchia a repubblica. Dopo questo referendum, il re d'Italia Umberto II di Savoia lascia il paese. Dal 2000, in questa data, viene festeggiata la festa della Repubblica. Chi è nato oggi? Tra i personaggi famosi, nati il 2 giugno, ricordiamo l'avventuriero e alchimista Alessandro Conte di Cagliostro e il cantante inglese Tony Hadley. La citazione del giorno. Ciò che c'è dopo di noi e ciò che c'è prima sono piccole questioni in confronto a ciò che c'è dentro di noi. Ralph Waldo Emerson. Dice il saggio. Il matrimonio è l'unica favola che comincia con Vissero felici e contenti e finisce con C'era una volta. Il bel paese. Monteriggioni, in provincia di Siena, è uno dei borghi più belli della Toscana ed era considerato nel Medioevo luogo di entrata all'inferno. È rimasto incredibilmente intatto come se il tempo non fosse mai trascorso. Il paese fu costruito dai senesi tra il 1213 e il 1219 per scopi puramente difensivi e domina il territorio dalla cima di una collina che si affaccia sulla via Cassia. La cinta muraria è composta da 14 torri e due porte. La struttura del borgo, come la vediamo oggi, può essere considerata essenzialmente quella originale. Ogni anno nel mese di luglio si celebra un evento speciale, la festa medievale di Monteriggioni, una delle rievocazioni medievali più belle della Toscana. Grazie a tutti.